Venerdì 26 maggio, nella Basilica di Santa Maria delle Grazie, è stata vissuta in un clima di preghiera l'attesa del dono dello Spirito Santo. Il Vescovo Pierantonio e i Ministri delle Chiese presenti a Brescia hanno preseduto la veglia di Pentecoste. Ricordando l'evento della Pentecoste, ricordiamo a noi stessi che proprio nei momenti più duri e oscuri della nostra storia, Dio è sempre intervenuto per portarci in liberazione e salvezza, per donarci la possibilità di sperare in un domani diverso da quello che possiamo tenere e che può essere considerato inevitabile. La preghiera ecumenica è stata promossa e animata dalla consulta delle aggregazioni laicali. Con la Pentecoste si commemora il dono dello Spirito Santo, i primordi della Chiesa e l'inizio della sua missione a tutti i popoli.